Salve amici di Avenzi Italia, in questo video andremo a vedere la terza e ultima parte della prova a comprensione della lettura dell'esame CILS livello B1, prova del 2017 che dura 50 minuti. Nei due video precedenti abbiamo visto il primo esercizio con domande e risposta multipla e il secondo esercizio con molte frasi che riguardavano un testo tra cui dovevamo scegliere solo 7 di esse che erano corrette. Qui invece abbiamo una storia che è stata messa in modo un po' random, diciamo così, o disordinato, che dobbiamo cercare di mettere in ordine mettendo il numero delle frasi successive. Quindi abbiamo cominciato con la numero 1 che dovrebbe essere la A, in questo caso ce l'hanno già data, e noi partendo da questa indicazione dobbiamo trovare la numero 2, 3 e così via. In questo caso io consiglio di leggere tutte le frasi per capire un po' di cosa si tratta e poi sottolineare delle parole chiave che troverete durante la lettura, perché qui c'è il senso logico e cronologico, quindi ci sono frasi che ripetono determinate parole, se le trovate le possibilità sono molto elevate che queste siano connesse tra di loro, e c'è ovviamente anche il senso cronologico, quindi si comincia dalla mattina e si finisce la sera, non si comincia dalla sera e si finisce la mattina. Quindi se nel caso concreto Valeria Pace, che è un insegnante, ama molto leggere i libri, ne compra sempre tantissimi in libreria, ma anche nelle bancarelle dei mercatini. E dobbiamo cercare di trovare come queste frasi susseguono. La frase era questa, dicembre 1983, non ho letto questo libro ma me ne hanno parlato bene. Impara ad apprezzare i libri francesi, ti amo Sergio. Da questa seconda frase ha capito che Sergio regalava libri e che la sua storia d'amore è durata almeno tre anni. Cerchiamo anche noi i libri con le frasi di Sergio. Seconda frase, quindi significa che c'è anche una prima frase. La lettura di questa frase le ha fatto venire tanta curiosità di sapere chi è Sergio e di sapere come è finita la sua storia d'amore. In una delle primissime pagine Valeria si è ritrovata infatti a leggere una frase appena firmata da un uomo di nome Sergio. Questa volta la frase era dicembre 1980 e vecchioni, so che ti piace, ti amo Sergio. Quindi questa è la prima frase e la seconda frase era la C, forse la B in questo caso. Appena ha iniziato a sfogliare le prime pagine del libro ha però notato subito una cosa molto particolare. Dopo questo primo post Valeria è tornata a scrivere su Facebook perché sempre nella stessa bancarella ha trovato un altro libro con una frase di Sergio. Quindi vediamo, c'è una seconda frase ma c'è anche un secondo e primo post. Con questo post voleva far conoscere a tutti questa storia, infatti tante persone hanno fatto commenti. Poco tempo fa proprio in una bancarella ha comprato una copia molto vecchia del libro educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Valeria allora ha scritto un post pubblico sulla sua pagina Facebook in cui ha riscritto esattamente le parole di Sergio. Notiamo che ci sono delle parole che si ripetono e dobbiamo cercare quelle che si ripetono per trovare una connessione tra le frasi. Ad esempio abbiamo visto nella prima frase la parola bancarella che si trova anche nella seconda frase. E ovviamente le frasi con Sergio che mettiamo una x sul nome Sergio. Sergio, Sergio che sono tante però possono essere collegate tra di loro. Dobbiamo cercare sempre parole collegate tra di loro, anche quello che ho detto all'inizio. Seconda frase con due linee, frase era anche la prima qui, però mettiamo un altro simbolo perché altrimenti non riusciremo a distinguere quello che abbiamo sottolineato. Frasi anche qui, questo è il foglio delle domande, quindi siete sempre liberi di segnalare quello che volete, nessuno corregge questo foglio. Avete l'altro foglio per le risposte e lì dovete ovviamente non mettere segni ma solo le risposte definitive. Una U su Facebook, ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo anche qui. Quindi vediamo molte parole che si ripetono e che potremo sempre continuare a sottolineare anche in futuro. Bancarella avevamo visto qua e qua. Quindi Valeria è un insegnante a cui piace comprare libri, ne compra sempre tantissimi in libreria ma anche nelle bancarelle dei mercatini. Poco tempo fa proprio in una bancarella, quindi proprio nella bancarella di cui abbiamo parlato, ha comprato una coppia molto vecchia del libro. L'educazione sentimentale di Flaubert, questa dovrebbe essere la 2 e quindi non c'è bisogno di rileggerla. Quindi adesso dobbiamo cercare cosa ha trovato nel libro di Flaubert. Abbiamo visto due frasi ma dobbiamo cercare la prima in questo caso perché sicuramente si riferisce a questa. Allora, le parole con frase sono La frase era questa Non ho letto questo libro ma ne hanno parlato bene Impara ad apprezzare i libri Ti amo, Sergio Questa non può essere Da questa seconda frase ha capito che Sergio regalava i libri che la sua storia d'amore è dorata. Le letture è la frase d'amore Appena ha iniziato a sfogliare le pagine del libro Perché lei trova questo libro sentimentale di Flaubert e appena inizia a sfogliarlo, il libro che ha appena trovato, ha notato subito una cosa molto particolare. In una delle primissime frasi Valeria si è trovata infatti a leggere una frase appena firmata da un uomo di nome Sergio. Quindi questa dovrebbe essere la numero 4 in questo caso perché l'uomo di nome Sergio ha scritto la frase che l'abbiamo trovata appena abbiamo cominciato a sfogliare il libro. Quindi inizi a sfogliare il libro Nelle prime pagine del libro che stai sfogliando trovi una frase in questo caso. E adesso dobbiamo cercare quelle con la parola Sergio. La frase era questa Da questa seconda frase Questa volta la frase era Attenzione La frase era questa, questa volta la frase era Significa che questa era la prima frase Mentre questa volta significa la seconda volta la frase era quest'altra Siccome siamo all'inizio, al primo libro che ha comprato, si tratta della prima frase Quindi in questo caso la 5 dovrebbe essere la B La frase era Dicembre 1983 Non ho letto questo libro ma me ne hanno parlato bene Impara ad apprezzare i libri francesi Ti amo Sergio Da questa seconda frase no Ma dalla prima frase in questo caso Quindi dobbiamo cercare la prima frase La lettura di questa frase le ha fatto venire tanta curiosità E di sapere chi è Sergio E di come è finita la sua storia d'amore Questa volta la frase era non può essere Dopo questo primo post no Perché non l'ha ancora messo Con questo post voleva far Voleva far conoscere la sua storia Quindi anche la parola post la dobbiamo sottolineare E post c'è anche qui Quindi possono essere collegate tra di loro Con questo post Allora è scritto un post pubblico Quindi dopo la lettura della frase Ha avuto voglia di sapere come è finita la storia di Sergio E ha pensato di scrivere un post su Facebook Poi ha trovato la seconda frase E ha scritto il secondo post Da quanto capiamo Perché abbiamo trovato prima frase e seconda frase Primo post e secondo post Quindi la 6 dovrebbe essere Quando ha trovato questa frase Ha voluto capire come è finita la storia di Sergio Questa volta la frase era Non può essere Dopo questo primo post no Perché significa che l'ha scritto il post Con questi post voleva far conoscere Significa che anche qui che ha già scritto il post Valeria allora ha scritto un post pubblico Sulla sua pagina Facebook In cui ha scritto esattamente le parole di Sergio Quindi questa dovrebbe essere la 7 Adesso il post l'ha scritto Il post l'ha scritto La 8 dovrebbe essere o la H o la I Perché dopo questo primo post o con questo post Voleva far conoscere a tutti questa storia Infatti tanto persone hanno fatto commenti Dopo questo primo post Valeria è tornata a scrivere su Facebook Perché sempre nella stessa bancarella Ha trovato un altro libro con una frase di Sergio No Allora la 8 dovrebbe essere la I in questo caso Perché ci spiega perché ha scritto il post E dopo che l'ha scritto E' ritornata a scriverne un altro Perché ha trovato un altro libro di Sergio E il libro aveva un'altra frase in questa volta E questa volta la frase era Dicembre 1980 E vecchioni so che ti piace ti amo Sergio Quindi questa è la seconda frase E da questa seconda frase dovrebbe essere poi la 11 Ha capito che Sergio regalava libri E che la sua storia d'amore è durata almeno 3 anni Cerchiamo anche noi libri con le stesse frasi di Sergio Quindi voleva mettere il post per capire Quanto è durata la storia di Sergio Questo era l'obiettivo di Valeria E alla fine la numero 11 Ha scoperto veramente la durata della storia Che era appunto di 3 anni Questo è l'approccio che io vi consiglio di usare Durante lo svolgimento di questa prova Mettere i segni Alle parole identiche Segni diversi per le stesse parole Mettere i numeri accanto Così sapete già quali sono quelle che sono rimaste È un po' difficile trovare le prime 2 e 3 Ma poi come avete notato le ultime 4 o 5 sono facili da trovare Perché avete risposto alla maggior parte di queste frasi E ovviamente è essenziale leggere tutto il testo prima Per capire un po' la storia Avere un'idea del senso Questo vi dà il senso cronologico Come è cominciata la storia Già leggendo le frasi disordinate Voi capite che si tratta di una donna a cui piacciono i libri E che trova dei libri con frasi di Sergio Sono due Perché vediamo due frasi e due libri E mette post su Facebook per trovare questa persona Vediamo anche il foglio delle risposte Questo qui dovremmo aver risposto in modo corretto Vi lascio comunque la playlist in descrizione sotto questo video Per vedere altri esempi se vi interessano Io comunque vi ringrazio della vostra attenzione Ci sentiamo nei prossimi video Ciao